L'altitudine è rischiosa per la sua età, eppure Papa Francesco non vuole freni. Arrivato in Bolivia all'aeroporto di Lelalto, un'altitudine di circa 4.000 metri, ha ricevuto in regalo dal presidente Evo Morales una ciuspa, un contenitore tradizionale con foglie di coca. Poi in viaggio per la Paz, il pontefice si è recato nel luogo dell'ecido del gesuita Luis Espinal Camps, massacrato dai paramilitari nel 1980 durante le battaglie in sostegno ai minatori. Mi sono fermato per salutarvi e soprattutto per rendere omaggio a un fratello, detto il Papa. Per ricordare un nostro fratello, vittima degli interessi di chi non voleva che lottasse per la libertà della Bolivia. Ad attendere il pontefice, proveniente dall'Ecuador, migliaia di persone, tra cui esponenti delle comunità indigene. Lasciata alla Paz, il Papa si è poi spostato a Santa Cruz. La Paz, il Papa si è poi spostato a Santa Cruz. La Paz, il Papa si è poi spostato a Santa Cruz.